Vi devo dare una cosa? Ma no, dai, ma non c'è bisogno! Eh, lo so, siamo assieme da poco, però io ti amo! Beh, che dire? Grazie, lo apro allora. Che cosa? No, un iPhone! Ma sei esagerato! Dai, dai, dai! Amor, non c'è! Se è color oro potrei mettermi a piangere, guarda! Dai, apri, basta, apri! Beh, allora? Mamma, ma questo non è un iPhone, questo è un termometro. No, amore, è un test di gravidanza. E di chi è, scusa? È nostro! Diventi papà! Oddio! To turn you up, for everything that I've done.